Le partite qui finora sono andate tutte bene anche se con varie sofferenze, alcune maggiori altri minori, penso alla zoofattoria didattica, penso all'edellandia, penso all'ippodromo e quindi dobbiamo chiudere anche terme. Poi è chiaro, capita che certe volte alcuni imprenditori si fanno avanti e poi fanno il passo del gambero e vanno indietro, quindi noi andiamo per chiudere secondo la linea originaria che ci siamo dati, non andando alla vendita totale delle terme, che credo sia la cosa migliore, cioè preservare quella funzione storica, archeologica, ambientale, termale in mano pubblica e cedendo invece il resto all'imprenditoria privata, penso al ristorante, tutte le attività collaterali, non ha senso che le tenga il comune. Io credo che si può raggiungere questo obiettivo, ma questo non dipende solo da noi, dipende da vedere se c'è qualcuno che vuole investire. Comunque anche lì abbiamo, oltre a questo piano A, c'è sempre un piano B perché la questione del Medianiano si deve definire entro l'anno. Abbiamo letto del restyling del lungomare, ci può dire qualcosa in più? Voi lo conoscete già il progetto perché l'abbiamo presentato, ha ottenuto le autorizzazioni di tutte le sovrintendenze, c'è un carteggio formale conclusivo in atto con la Regione, tra me e il Presidente De Luca, quindi abbiamo ragione di ritenere che entro l'anno si chiude un accordo con la Regione, che non riguarda solo il lungomare, però attenzione, ieri si è parlato di lungomare perché stavamo alla presentazione di un libro sul lungomare, ma attiene a tantissime altre opere pubbliche della nostra città e questa è una svolta, perché noi da Caldoro non eravamo stati nemmeno consultati sulla programmazione 2014-2020, adesso De Luca sta facendo la corsa contro il tempo, noi dal nostro punto di vista l'abbiamo aiutato, cioè nel senso abbiamo presentato quello che è il piano per Napoli e ci attendiamo il visto definitivo, ma credo che si vane alla direzione di un accordo di programma importante, tra cui c'è il lungomare, che è un restyling complessivo che va da Largo Sermonita fino al Molosiglio e credo che questo sia un fatto strategico non solo per la riquirificazione di un pezzo importante di Napoli, ma anche per il rilancio turistico e internazionale della nostra città.